E' un genio. Negli anni 80 ha costruito degli acceleratori di particelle grandi come zaini. Ma cos'è sta roba? Abbiamo un ambiente saturo di manifestazioni psicocinetiche tradotte in esternazioni ectoplasmatiche aggressive. Funciona! Fantastico! Ragazzi... E adesso che facciamo? Te lo dico io che facciamo. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.